I carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Francesco Manna hanno tratto in arresto un 25enne di Agropoli ed un 19enne di Capaccio Pestum, appizzicati la scorsa notte dai militari della sezione di Ogliastro Cilento con le mani nel sacco. I due sono stati intercettati mentre facevano carburante mediante una tessera rubata poco prima unitamente a 5 autoradio di varie macchine e modello ai danni di altrettante autovetture regolarmente parcheggiate nei pressi della locale area industriale. Le perquisizioni personali e veicolari consentivano di rinvenire anche gli arnesi da scasso utilizzati per il furto. I due giovani sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.